4 minuti dopo le 22, ancora per Curva Ovest, puntata numero 27. 27 vuol dire che ci avviciniamo caro Simone, visto che la nostra trasmissione segue l'andamento del campionato, ci avviciniamo alla fase finale. 8 partite, si dice spesso ormai da qualche settimana, 8 finali, è così che vanno interpretate, ogni partita come fosse, staccarla dal resto, 90 minuti da tutto il resto, da quelle che verranno dopo, da quello che fa la Correggese, di cui so non volete sapere niente durante la partita. No, lo vogliamo sapere a fine partita. No, durante la partita non volete sapere. Durante la partita no, sarebbe deleterio, sì è vero, bisogna pensare come se fossero sempre finali, perché il nostro obiettivo tutte le domeniche è vincere, vincere e vincere. Il problema ancora più delle finali è che mentre le finali di certi tornei, di certe coppe, giochi 90 minuti, poi eventualmente ci sono in supplementaria, la partita la devi vincere, possibilmente entro i 90 minuti, crea ancora più difficoltà forse. Sì, crea difficoltà, come dicevo prima, proprio a livello anche psicologico. Il dover vincere sempre non è facile, però da grande squadra bisogna farlo, perché insomma siamo lì a due punti e non possiamo perdere terreno. Queste otto ultime partite bisogna cercare di vincere tutte. Vediamo cosa fa la Correggese. Da quando giocate queste finali, che già qualche settimana, qual è stata la partita dove hai temuto veramente di non farcela? Con San Colombano. A San Colombano, sì. Sì, è stata una liberazione quando ha segnato… Rajcevic. Sì, veramente, lì esplosa veramente tutta la gioia da parte della panchina, insomma un po' da parte di tutti. Rischiava un po' di complicarsi addirittura anche quella di Formigine, pur con un avversario che sbloccaste dopo un'ora di gioco. No, proprio per le difficoltà oggettive di giocare per la partita. Sono partite strane, nelle volte che viene la partita cerchi di… oggi do tutto me stesso e poi trovi delle difficoltà magari anche nelle piccole… insomma anche lì siamo stati bravi da grande squadra a sbloccare i risultati e portarlo fino alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa prima di passare ai messaggi, l'assenza di Fabio Aliboni e la ricerca della sistemazione di questo centrocampo su cui state lavorando, ma un Simone Angeli a centrocampo? No, non è il momento degli esperimenti. Non è il momento degli esperimenti? No, otto giornate dalla fine no. Ma tu hai giocato a centrocampo anche? Sì, esterno di centrocampo. A cinque. Ma proprio esterno però? L'eccellenza fece anche due partite… Proprio come interno? Da interno però centrocampo a due. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, Giulio? Sì, questo è per Simone, si firma Edgar. Dice, Angeli, grande esempio di professionalità e grande uomo. Per me giocheresti sempre. Dice, ma capisco la regola degli under. Asfaltiamo il Fidenza. Ora lo vediamo fra un po' il Fidenza. Questo non si firma e dice, vorrei saperne di più su alcune vicende accadute. Dice, il contatto con Giovannini è stato solo per informazioni? E Russo, come può averla presa? Per me il Presidente è il futuro e può darci soddisfazioni. C'è tanta voglia di professionismo. Chi risponde? No, no, rispondi pure. Niente, no, il discorso di Giovannini è stato un contatto, diciamo, plurimo, in un paio di volte almeno, per cercare di capire quello che significa, giustamente, la Lega Pro, il professionismo. Non solo a livello tecnico, ma anche a livello di budget, investimenti, tutto quello che può essere, diciamo, il lato economico derivante anche dal minutaggio dei giovani. Sappiamo che ci sono, ad oggi, delle regole che probabilmente verranno cambiate prima dell'inizio della prossima stagione con la riforma della Serie C. Per cui, ecco, è stato, diciamo, così, per capire, per l'ustrativo. Però il tifoso si chiede, per l'ustrativo con un uomo esperto di calcio come Paolo Giovannini, che ha fatto molto bene in tante piazze dove è stato, ha fatto davvero molto bene, compreso quest'anno a Ponte d'Era, oppure il tifoso, logicamente, si domanda, oppure si è parlato magari anche di andare oltre l'incontro per l'ustrativo, perché, insomma, queste domande uno se le fa anche, no? No, sicuramente sì, però credo che in questo caso noi non siamo le persone adatte per rispondere, anche perché Paolo Giovannini mi risulta avere un contratto col Ponte d'Era ancora per, penso, per almeno un'altra stagione. Poi, insomma, sta facendo bene, per cui non so quanto il Ponte d'Era si vorrà privare di Paolo Giovannini, non so quanto Baci avrà eventualmente interesse ad assumere Paolo Giovannini, non so, appunto... E comunque, anche qualora dovesse esserci qualcosa, è chiaro che adesso non è il momento. No, è assolutamente prematuro, poi insomma ora parliamo... C'è di mezzo un campionato da giocarsi, e questo è un campionato davvero molto, molto importante, proprio per il fatto che ti permetterebbe di ritrovarti, proprio come abbiamo detto, quando l'abbiamo detto giovedì scorso, un viaggio spazio-temporale, tipo Star Trek, proprio ti ritrovi in un'altra galassia, in un altro pianeta. Allora, Stefano scrive, lasciamo stare i gufi, forza Lucchese e basta. Eh, i gufi, il partito dei gufi si è manifestato anche su questo discorso. Il partito dei gufi c'è sempre. Ha una buona percentuale, ma lo supera lo sbarramento il partito dei gufi? Purtroppo sì. Lo supera. Purtroppo sì. Nico66 dice, in 2000 a correggio come minimo, risvegliare la vecchia guardia e tirare fuori gli storici striscioni. Iniziate a fomentare tifosi. 2000 a correggio vorrebbe dire che sicuramente non giochi a correggio. Chi era questo Emilio? Chi era? No. Chi era qui? Si è firmato Nico66. Nico66? Sì. 2000 sicuramente io credo che a correggio non sia uno stadio. No, a correggio tiene 800 spettatori. Quindi 2000 vorrebbe dire che sarebbero costretti a giocare la partita. Qui sarebbe un motivo in più, qualora quella partita fosse decisiva, veramente per mobilitarsi tutti quanti. Diventerebbe un problema perché gli stadi vicini sono Reggio Emilia. Eh, vabbè, non dovranno trovare uno stadio. Ma Reggio Emilia si gioca al Sassuolo, si gioca la Leggiana. Insomma sarebbe un po' un problema. Vabbè, vediamo. Adesso ci sono tante altre giornate ancora. Intanto qualcuno mi sta confermando perché Stefano dice Giulio anche l'anno prossimo. Quindi è 1-0. Poi, porca miseria, domenica non posso... Però questo Pino lì è troppo furbo, secondo me. Vabbè, voglio vedere se arriva anche qualcosa che dice Giulio, mettiamolo in dubbio, discutiamolo, parliamone. Tuo telefonino canta, quindi carta canta. Vabbè, vabbè. Porca miseria, dice questo tifoso, domenica non posso venire, sono al compleanno di Alba. Dispetto. So chi sia Alba e non so chi fa il dispetto. Sì, non so chi sia Alba e non so qual è il dispetto. Vabbè, ho tanti auguri ad Alba a questo punto, non lo so. Qui si sta andando verso un... No, verso cosa? Ma io, a parte che non li vedo, quindi però mi voglio fidare. Simone si legge insieme. Mi voglio fidare, no Simone. Sia la conferma dell'opinionista, competente, diretto e equilibrato. A me che vivo fuori Lucca fa capire in pochi minuti il clima della squadra e del campionato. Marco Lucchese nel mondo. Grazie Marco. Quasi un plebiscito sta, eh. A Lucca c'è la cena pagata quando torni da noi, eh. A Lucca c'è sempre qualcuno che piange e si lamenta. Avanti sempre con i soliti tifosi e in fondo schiena ai gufi. Forza Lucca da Azza 75. Con Azza ti fermo, perché adesso Gian Piero mandiamo un po' qualche immagine della partita di andata. Simone abbiamo parlato di tifosi, di squalifiche, no? A cominciare la quella del mister, ai daspo e così via. All'andata ti ricorderai, contro il Fidenza, sono le stranezze del calcio. Guarda chi c'era in panchina. Viste la scuola di calcio. E giocaste a porte chiuse, tra l'altro. Ricorderai quella partita? Sì. Che vincesse poi 4-0. Una giornata tra l'altro anche ventosa. Beh, niente. Fidenza è una di quelle squadre, l'abbiamo visto in apertura di trasmissione, che sono lì a sgomitare per evitare il play-out. Sì, ma poi da gennaio mi sa che nel mercato ha cambiato qualcosino, qualche giocatore. Quindi è un po' diversa da questa squadra qui, dici? Sì, qualcosa ha cambiato. Penso che si siano rinforzati. Lo dimostra il fatto che anche domenica abbiano fatto un'ottima partita con la Correggese. Sarà una partita da prendere con le molle. Ci vorrà sicuramente la miglior Lucchese. E ci vorrà l'approccio giusto, come abbiamo avuto nelle ultime domeniche. Quello sarà, secondo me, fondamentale. Fargli capire subito che, insomma, noi ci giochiamo tanto. Ci giochiamo una promozione in Lega Pro. E questo deve fare la differenza veramente nelle motivazioni. Spesso, Simone, avete negli ultimi tempi, nell'ultimo mese, mese e mezzo, avete sbloccato le partite in modo abbastanza sollecito, no? Ne ricordo diverse. Questo può essere un segnale anche… Sbloccato? Sì. Sì, sì, sì. Sbloccato abbastanza presto, nei primi minuti. Sì. Mi viene in mente quella di Giorgio. Camagliore con Nazareno. Sì, poi altre partite. Come ho detto prima, ci deve essere questo approccio. L'approccio giusto di una squadra che sa quello che vuole. Poi, ci sono anche partite che magari all'inizio non riesce a sbloccare, bisogna essere bravi, essere pazienti e quando ci capita l'occasione giusta, buttarla dentro. Non farsi prendere dalla frenesia in quel caso, no? Di voler segnare subito, per forza. Perché si è visto proprio a San Colombano, la partita va in vantaggio due volte, poi sembra che non ce la puoi più fare, anzi rischi forse di prendere anche il 3-2 in una situazione di incertezza difensiva e poi comunque il gol lo trovi, quindi è anche lì la maturità della grande squadra. Forza anche mentale di saper aspettare, di saper soffrire, perché anche se siamo secondi in classifica, a due punti dalla prima, ci sono state partite che abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto nella maniera giusta, da squadra vera, da gruppo vero e questa alla fine ha fatto anche la differenza. Se non ricordo male, lo scorso anno, quando tu giocavi in pratica sempre, a Firenze se non ricordo male, abbiamo vinto, vinceste, però era un altro campionato, era un'altra storia, quindi fare paragoni con noi, non si possono fare, non si possono assolutamente fare, beh anche quella dell'anno scorso, però fu una squadra che fuori casa vinse parecchio, se non ricordo male, 11 partite, no Giulio? Noi abbiamo preparato, come sempre, anche perché dobbiamo fermarci per l'ultima volta, la probabile formazione. Allora io posso dire una cosa, che giovedì scorso, a Curvo Ovest, la probabile formazione, che quasi non credevo ai miei occhi poi giovedì, domenica, quando hanno portato le liste, l'avevamo presa caro Giulio, l'avevamo presa in pieno, poi è successo che io all'allenamento vado solo il giovedì, mi sono, forse anche giustamente, un po' fidato di quello che scrivono gli altri colleghi, di quello che aveva detto venerdì il mister in conferenza stampa, ma il mister è anche nel suo lavoro, forse sviare un po', è nulla, dopo l'ho cambiata, in realtà però l'avevamo proprio presa con Rajcevic in campo, questa sera è questa invece, non so se può andar bene, non lo so. Sbagliato, non ci sono io. Ma io sai che fino a ieri ero tentato quasi di metterti, però stasera poi mi hai completamente... No, no, ora non ti chiedo se è questa Simone, perché chiaramente forse non lo puoi sapere anche te, neanche te, però ecco, non lo so se può essere così lontana dalla realtà, che dici? Penso non sia lontana. Non sia lontana dalla realtà. Forse la posizione dei centrocampisti potrebbe essere diversa? Cioè Gialdini mi stai dicendo potrebbe giocare lì? Al posto di Calcagni e Calcagni di qua? No, non lo so, vi dico la verità, non lo so perché il mister mi ha fatto un po' girare un po' tutti, insomma, non lo so, ti direi... No, 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 ho capito, no, non ti voglio. Una cosa che non sono certo. Noi d'altro canto diciamo che siamo un'appropabile, poi siamo a giovedì sera, quindi... Tu Giulio? Io secondo me questa volta l'hai proprio indovinata, secondo me. Ma no, l'avevamo indovinata anche giovedì sera. Sì, sì, ma dico... Non si tratta di indovinarla, si tratta così di ipotizzarla. No, sì, sì, perché per esempio io vedo molto più Calcani, centrale rispetto a Gialdini, Gialdini lo vedo un po' più, diciamo, spostato leggermente sull'esterno. Il dinamico Gialdini, ti è piaciuto il dinamico Gialdini? Non vedo assolutamente, non è come riferimento centrale, perché non è uno che con gli inserimenti che fa... Eh, dovrebbe mancare quello, poi. Vedeva mancare quella cosa lì, secondo me. Che è piaciuto il dinamico Gialdini, ragazzo che combatte. Sì, sì, ma poi ti ho detto, io lo dissi giovedì sera in diretta, qui in trasmissione, cioè è un giocatore che nonostante non sia un colosso fisicamente, ma la presenza in campo lo fa sentire perché è uno che, come piace a me, insomma è uno che batte, non è che uno che si tira indietro o che toglie la gamba, insomma. Quindi è un combattente, questa squadra qui secondo me ha bisogno assolutamente di combattenti perché dobbiamo fare il miracolo tutti insieme. Allora adesso io, prima di andare in pubblicità, caro Giampiero, poi il prossimo turno e la volata per la Lega Pro, la vediamo dopo, ora sto facendo una cosa qui che vi faccio ridere, la vediamo dopo e anche il Lucchese Storie ce la facciamo. Allora, io il mercoledì mattina, in buongiorno con noi ho avuto ospite, il re del club degli Inc. avete capito, no? Allora adesso anche la Lucchese Libertas ha aderito a questo club di cui credo avrete sentito parlare, non so se si può vedere, adesso vorrei sapere poi chi è della Lucchese Libertas che ha, qual è la telecamera? E' questa qui? E' questa qui? Eccola qua. Questa? Me la inquadri di qui? Ecco qua. Lucchese Libertas, io non so se, ecco, io non so se poi sappiamo chi ha aderito, tu sapevi Simone di questa cosa? Che la Lucchese aveva aderito? Ma perché ce ne sono di voi, ce ne sono tanti di voi? Beh, il mister sicuramente sì, però ce ne sono altri che potrebbero far parte di questo club. Addirittura ci dicono il gentil sesso. Come? Addirittura ci dicono il gentil sesso. Cosa il gentil sesso? Partecipa a questa cosa. Sì, sì, no, ma c'ha già, si chiama Marco dell'Oriente, un ragazzo. No, ma te non capisci, io sto vedendo quello che c'è dietro le telecamere. Ah, vabbè, vabbè, avrò capito, vabbè. Niente. Speriamo che questa si trasformi poi, Simone, in forza, in grinta, in vigoria fisica. Ci fermiamo per ultima volta, poi abbiamo ancora qualche messaggio e allora mi sa che questa sera a Lucchese Stori lo rimandiamo. Tanto con Russo ci siamo chiariti, l'abbiamo spiegato, è Lucchese Stori, allora te lo dico già ora Gian Piero, alla prossima settimana, lì nella regia.